Ciao, come va? Io alla grande, alla grande. Voi tutto bene? Bene, bene, bene. Allora, io partirei proprio dal Tottenham, perché domani appunto, lo stiamo parlando, sarà l'avversario del Milan, ma nel mercato ci avete detto che il club inglese ha messo gli occhi su un giocatore della Juventus, vero? Sì, esatto. Szczesny potrebbe essere il prossimo portiere del Tottenham, perché è un giocatore che va in scadenza con la Juve nel 2024 ed è un giocatore che è sempre piaciuto alla dirigenza del Tottenham, ovviamente a Paratici e soprattutto la Juve sta vivendo chiaramente un momento di riassestamento e andrà magari a proporre un taglio dei suoi stipendi più elevati e quello del Polacco uno stipendo di 6,5 milioni di euro per cui sarebbe un taglio che la Juve potrebbe permettersi soprattutto perché ha già in casa quello che poi sarebbe il suo sostituto per In perché sì, il sogno in porta sarebbe sempre Donnarumma, ma anche in questo caso i prezzi del portiere del PSG sono troppo elevati e come lo stesso Zoff ha per esempio suggerito, la Juve è un grosso portiere, ce l'ha già, ce l'ha spesso in panchina che è Perin per cui qualora dovesse appunto concretizzarsi questa opzione di partenza per Cesney, la Juve magari andrebbe a promuovere Perin nel ruolo di primo portiere un portiere che sta facendo benissimo quest'anno quando è stato chiamato in causa, per cui la Juve ci sta pensando, sarebbe una mossa soprattutto per il bilancio Juve che, scusa Cynthia, Juve che oggi ha fatto qualcosa di importante per un giocatore che già fa parte della Paparosa, vero? Sì esatto, era più che altro una formalità, ossia non è stata appunto decisa oggi il rinnovo, il riscatto meglio di Ken dall'Everton perché era appunto una mossa già diciamo programmata perché Ken che era arrivato nel giugno del 21 dall'Everton alla Juve è stato riscattato sono quindi stati pagati i 28 milioni di euro che servivano appunto, erano negli accordi con i Toffis, ce ne sarebbero altri 7 di bonus che potrebbero portare appunto l'intera operazione a 35 milioni di euro però appunto come dicevamo era un'operazione che era già stata messa in bilancio dalla Juve per cui si aspettava solo diciamo l'avverarsi di determinate condizioni, di determinati bonus per cui Ken resterà alla Juve, sarà appunto di fatto un giocatore tutto della Juve anche se ovviamente nelle ultime partite non si è messo molto in mostra Ciao Simone, a proposito invece del Napoli, quali potrebbero essere le prossime mosse? è chiaro che sta andando tutto così bene, tralasciando poi la parentesi di venerdì sera contro la Lazio, che il Napoli vuole in qualche modo blindare la squadra che ha in questo momento? Sì esatto, sta andando talmente bene che i gioielli di questo Napoli sono cercati un po' in tutta Europa e soprattutto su uno, su Kim, c'è l'interesse della Premier con il Manchester United che è in pole soprattutto perché il coreano ha un contratto abbastanza particolare che prevede una clausola di 50 milioni di euro esercitabile però solo appunto dai club esteri, quindi non in Italia e 50 milioni per lo United sono appunto una cifra abbastanza diciamo percorribile per il Red Devils questo sta facendo ovviamente spaventare lo sezzo Napoli che ha già in programma alcuni incontri con il giocatore e con il suo staff in modo da allungare il contratto del coreano che scade nel 2025 e cercare di rimuovere questa clausola oppure magari di alzarla perché il giocatore sta dimostrando di valere molto più i soldi e quindi l'Aurentis vuole cautelarsi Simone la partita di domani può incidere sul futuro di Leao? Beh la partita di domani può incidere sul futuro di molti protagonisti perché sia Leao che lo stesso Pioli che lo stesso Conte hanno tutti piacere di passare il turno perché sarebbe un traguardo importante per Leao ovviamente la situazione è sempre la stessa il giocatore ha espresso più volte il desiderio di restare ha capito che restare al Milan è in questo momento la scelta giusta per il proseguo della sua carriera l'offerta importante al giocatore è stata fatta però ovviamente il Milan deve garantire a Leao che magari si possa arrivare anche oltre agli ottavi di finale che si possa essere competitivi anche in Europa e quindi in questo senso potrebbe essere molto importante perché il Milan se dovesse ritrovarsi tra le migliori otto d'Europa appunto non farebbe che dimostrare Leao la validità del progetto rossonero Simona ti faccio quattro nomi ma non ti chiedo di fare analisi troppo approfondite perché mi rendo conto che diventa troppo però un punto rapidissimo su ognuno di questi lato Inter se hai piacere perché si stanno muovendo un po' di cose in casa Inter? Innanzitutto anche un discorso di rinnovi ma non solo ti faccio questi quattro nomi D'Ambrosio, Brozovic, Lautaro Martinez e Dzeko ti va di fare un punto su questi quattro? potremmo anche andare su altri ovviamente però insomma sono quelli di cui abbiamo parlato insomma negli ultimi 24-48 ore un po' per la possibilità che vadano altrove un po' perché in questo momento i rinnovi ancora non sono arrivati Allora sì, partiamo da D'Ambrosio perché è chiaramente una sorta di totem dell'Inter ha il contratto in scadenza come molti altri difensori di Inzaghi in questo caso però è una decisione che verrà presa magari a fine anno verrà valutato lo stato di forma del giocatore napoletano e quindi si andrà a capire se prolungare o meno il contratto ma i rapporti tra il club e il giocatore sono ottimi sta giocando pochissime quindi questo potrebbe appunto spingere il club a non rinnovare il contratto anche se il giocatore vuole restare ovviamente all'Inter sa di avere questo ruolo e quindi è una situazione che andrà analizzata soprattutto a fine anno per capire quanti di questi difensori dell'Inter andranno o meno in scadenza e quindi se ci sarà posto per D'Ambrosio su Lautaro invece la situazione è molto più chiara perché è diciamo il capitano futuro dell'Inter ha dimostrato sul campo l'attaccamento che ha a questo club e nonostante le offerte arrivino soprattutto dalla Premier Lautaro resterà perché appunto non è lui il giocatore sacrificabile per l'Inter che invece potrebbe essere Brozovic perché ha ormai perso il suo posto da titolare al centrocampo è ormai una riserva di lusso e l'Inter sta pensando a lui o a Dumfries per andare a monetizzare andare a fare quelle cessioni che sono appunto fondamentali per mettere a posto il bilancio del 2022-2023 per cui quindi si potrebbe arrivare anche a un addio già entro il 30 giugno proprio perché all'Inter ha bisogno di fare cessioni e su Brozovic sul quale c'era stato in passato anche una ipotesi di scambio con Chessy del Barcellona ci sono molte squadre soprattutto in Liga soprattutto in Premier quindi Brozovic non è più il centrocampista titolare è ancora il capitano dell'Inter ma sta giocando pochissimo e quindi potrebbe essere lui il nuovo partente mentre su Dzeko anche qui la situazione è in divenire il giocatore vuole rinnovare ma di certo non vuole non vuole diciamo che le sue richieste non vengano accolte quindi l'Inter prima deve risolvere la grana a Lukaku e qualora dovesse appunto far sì che il Belga rimanga dopo essere tornato al Chelsea rimanga quindi all'Inter allora potrà concentrarsi su Dzeko in questo momento però l'Unica certezza in attacco dell'Inter è Lautaro e i risultati del campo e i risultati soprattutto in Champions diranno molto del futuro di due grandi bomber che però appunto sono un po' in là con l'età e quindi non garantiscono tanti anni di gol ancora per l'Inter Simone chiudiamo con un altro tema legato alla grande partita di domani Tottenham-Milan ossia Antonio Conte c'è davvero ci sono davvero delle alte probabilità che possa tornare in Italia? Allora delle alte probabilità direi di sì perché è stato lo stesso allenatore lo stesso Conte a dirlo perché ha un scontrato in scadenza ricordiamolo con il Tottenham Tottenham che avrebbe anche un'opzione per farlo restare un altro anno a Londra ma è abbastanza chiaro da quello che l'ex Juve e Inter ha detto e dal fatto che non ha ancora voluto rinnovare il contratto con il Tottenham che Conte ritiene questa sua esperienza con il Tottenham ormai al capolinea perché lui è un allenatore che vuole vincere ed è un club questo del Tottenham in cui appunto il successo manca un po' da tempo Conte ha fatto presente questo ha fatto presente che vorrebbe tornare in Italia soprattutto per la famiglia perché sua figlia, sua moglie sono qui sono a Torino e lui quindi potrebbe tornare in Italia anche senza avere una squadra perché il problema principale di Conte è che guadagna adesso 15 milioni netti è una cifra che nessuna delle grandi italiane gli può garantire perché la Juve è appunto in una fase di ristabilimento mentre Inter e Milan hanno fatto altre scelte hanno contratti lunghi con i propri allenatori e per esempio lì con Inter ci si è lasciati anche con una buona uscita che ovviamente non avrebbe molto senso pagare un allenatore per andarsene per poi riprenderlo quindi resterebbe un po' il Milan che è forse quella con più margini di manovra ma è un club che difficilmente pagherebbe 15 milioni di euro per un allenatore per cui se Conte deciderà di magari decurtarsi lo stipendio allora potrebbe essere una mossa appunto per tornare in Italia ma riteniamo che Conte possa anche magari prendersi un anno sabbatico per tornare in Italia per stare vicino alla propria famiglia e poi vedere quale opzione si potrebbe liberare per lui Grazie Simone Grazie Simone Ciao Simone, grazie Grazie a voi e agli amici ovviamente di